Fortnite è ormai pieno di skin. Ci sono ormai centinaia e centinaia di skin, picconi, deltaplani e balletti tra cui scegliere, ma la maggior parte dei giocatori va in giro con dei look assurdamente osceni. Chiamarli look, zia, mi sembra esagerare. In questo video, che deve raggiungere assolutamente tantissimi mi piace così YouTube capisce che è un video figo e lo condivide a tutti, vi mostrerò sette combinazioni sibaritiche da utilizzare su Fortnite. Infatti questo è... Ma come ti vesti? Fortnite Edition Attenzione, tutte le skin in questo video sono state shoppate assolutamente ed esclusivamente con il codice OCTIPFINI allo shop. Mettetelo ora! E ci tengo a ricordare che in questo video non andremo a vedere set già predisposti di Fortnite. Ad esempio, questo non va bene perché è un set già predisposto di Fortnite. E direi dunque di partire con il primo set che io chiamo Yakuza Inquisitrice. Come skin abbiamo Demi insieme alle ali nere metalliche che troviamo nel set delle ombre. La caratteristica di Demi è che è una combinazione di nero e rosso, proprio per questo ho deciso di sfruttare il piccone del set Inferno. Quel rosso è perfetto. Potete anche usare ascia plasmatica però, come deltaplano abbiamo due possibilità. Usare l'ombrello della vittoria alla stagione 3 oppure usare quello completamente nero dell'evento di John Wick. La scelta sta a voi. Personalmente preferisco quello rosso. Come scia, sempre per rispettare la nostra colorazione, abbiamo la scia rossa. Indominate quindi qual è la mimetica per le armi che andremo ad usare? Quella rossa e nera. Esatto. Alte alternative sarebbero quella completamente rossa o quella completamente nera. Ma ho preferito questa, proprio perché ha entrambi i colori. Ed è una mimetica accesa e viva e che si combina benissimo con la scia. Rispetto a quella nera e rossa che danno invece in questo pass che ho reputato troppo secca. Per finire, insieme ad ogni set di skin, vi consiglierò un balletto da fare per quando stracciate i nemici. E in questa combinazione il balletto è extraterrestre. Penso sia un balletto che si adice tantissimo a Demi. Il costo totale di questo set in euro è di ben 44,48 euro. Il secondo set che vi propongo è quello che io chiamo il re magmatico. In questo set infatti sfruttiamo la skin del re dei ghiacci, ma ritrasformata, per diventare il re della lava. Proprio per questo motivo gli assegniamo le ali di ala fuoco. So che non si chiama ala fuoco, ma io lo chiamo così. Come piccone la scelta è stata ovviamente il teschio demoniaco, poiché ha quell'aria demoniaca e antica che si dice proprio perfettamente al re della lava. Per il deltaplano la scelta è subito ricaduta su ala fuoco, che ripeto non si chiama ala fuoco, ma io lo chiamo così. E come scia? Lava è ciò che fa il caso nostro. Un'alternativa potrebbe essere anche usare fiamme, ma quella è una scia della season 3 che non penso molti di voi avranno. Beh, se ce l'avete scrivetemelo in un commento. Tuttavia, penso che lava si adica molto meglio a questo set. Come mimetica per le armi abbiamo chiaramente magma. Alcuni di voi potrebbero suggerire calore, ma quella l'ho usata in un altro set che andremo a vedere in questo video. Dunque, non volevo un duplice utilizzo. Per il balletto vi consiglio quello dove si mostra il piccone, poiché dà quell'aria maestosa e imponente degna di un re lavico. Inchinatevi al mio prospetto, stupida plebaglia non catafratta. Il costo totale di questo set in euro è di ben 36,49 euro. Il terzo set di questo video è ciò che chiameremo Piaga della Peste Clockwork. Ed è uno dei miei set preferiti. Come skin abbiamo indubbiamente Piaga. Il piccone della Piaga non può essere che la falce. È proprio perfetta per questo set. Il suo backpack è proprio il suo originale, Aracanum. E ditemi quanti di voi sapevano che si chiamava Aracanum, perché io sinceramente non lo sapevo. Come deltaplano abbiamo per forza l'ombrello nero dell'evento di John Wick. Ma il bello sta proprio nella scia e nella mimetica, che sono skin temporali, possiamo dire. Infatti, la scia è quella della sabbia del deserto, che è una delle mie scie preferite se non la mia preferita in assoluto. E crea quell'effetto orologio quando ci si lancia. Perfetta, in combinazione con la mia mimetica preferita in assoluto. Quella Clockwork, che sono un sacco di ingranaggi degli orologi che girano. Per il balletto di questa combinazione ho scelto Contagioso. Perché diciamocelo, cos'è più contagioso della piaga della peste o di una canzone di Rovazzi? È contagioso! Il costo totale di questo set in euro è di ben 37 euro. Se ancora non l'avessi fatto, ti invito assolutamente ad iscriverti al canale per non perderti altri video del genere. E se vuoi supportarmi ulteriormente, puoi sostenermi nello shop qualco a supporto nel creatore OctiPF. Ma ora torniamo al video. Il quarto set di questo video mi è stato suggerito dagli ucchi di Shikokujin. Octi, questa è la combinazione di skin che ti consiglio io. Ed è il set Calabrone. Come skin usiamo Rox, che nel suo stile giallo e nero ci dà i colori da utilizzare per questo set. Le ali, c'è da chiederselo, sono quelle del robot del Pass Battaglia 9, vista la colorazione gialla e nera. Il piccone non poteva che essere Revoker, indovinate voi i suoi colori. E per il deltaplano ho scelto proprio questo, Carbonio, perché ha una colorazione nera e gialla. La mimetica è per forza quella del Calabrone dell'evento degli aviatori. Questo set non prevede una scia, oppure potete prendere la scia e senza spettrale. Tuttavia, penso sia carino anche senza scia. E come balletto, penso che Svolazzo sia la scelta migliore e più ovvia. Vola come una farfalla, pungi come un calabrone. O forse non era così che diceva il letto. Beh vabbè, il costo totale di questo set in euro è di ben 24 euro. E questo lo rende il set più economico in assoluto. Stop prima di proseguire col video. Ti ruvo 30 secondi per la sponsor time. Perché immagino che tu sia stufo di giocare con una tastiera scadente che ti fa venire voglia di scaventarla da tutte le parti. E immagino che tu abbia deciso di comprarti una nuova tastiera da gaming meccanica super fighissima. Allora la tastiera Blade Master Pro della Drevo è ciò che fa il caso tuo. La tastiera più votata nell'intera storia di Kickmaster. Con un layout completamente in italiano che uso io stesso per fare vittorie con 15 kill su Fortnite. La particolarità della tastiera è appunto il genisknob situato alla sinistra della stessa. Qui puoi assegnare ogni comando che ti venga in testa. Da quando l'ho provato non potevo più farne a meno. La scocca è completamente in metallo e gli switch sono di tutti i colori completamente Cherry MX originali. Addirittura i led sono luminosissimi e bellissimi. Nella fighissima scatola troviamo la tastiera, le istruzioni e un dispositivo per collegare la tastiera via bluetooth. Perché sì, questa tastiera è bluetooth. Un pennello per scopare la tastiera, una pinzetta per rimuovere i cake house e una foto di otti da piccolo col culetto di fuori. No, forse questa non c'era. Nessun obbligo, ma se volete una tastiera come la mia andate in descrizione che trovate il link per la tastiera con un codice sconto del 20% solo per gli iscritti alla pura febbre italiana. Sbrigatevi prima che finiscano! Il prossimo set che andremo a vedere si chiama Green Bad Guy. È la skin di punta e Mesmer. Non so quanti di voi abbiano scioppato questa skin, ma a me piace un sacco. Io ho deciso di costruirci un set intorno. Essendo Mesmer un ragazzaccio col cappuccio, il suo backpack non poteva che essere lo skateboard nero. Per mantenere lo stile nero e verde usiamo i duplici picconi, neri e verdi, che ci stanno davvero tanto in questo set. Come ombrello usiamo l'ombrellino verde per mantenere i colori basici. La scelta della scia è ricaduta su quella dell'arcobaleno e dei trifogli, perché dà quel colore verde chiaro che usiamo in questo set. La mimetica dunque è chiaramente quella verde. Per il balletto da fare quando obliteriamo i nemici, feroce è stata la ovvia scelta, visto che lui è un bad guy. Il costo totale di questo set in euro è di ben 40,5 euro. Il sesto set che vedremo in questo video è il set universitaria laureata che ha appena trovato il lavoro dei suoi sogni. Infatti, surtiamo la perfetta combinazione tra la secchiona universitaria e il backpack delle patatine fritte, che dopo tutto si cucinano nel luogo dove andrà ad esercitare la sua professione, quindi è proprio perfetta. Come piccone, la scelta è ricaduta sulla spatola per cucinare gli hamburger, che è il piatto principale servito sempre nel luogo dove andrà ad esercitare la sua professione. Io non voglio assolutamente dirvi di che luogo si tratta, non sarebbe giusto e sarebbe solamente sfruttare uno stereotipo comune, quindi non ve lo dirò. Valide alternative sono il piccone con la salsiccia e il piccone del coltello e della forchetta. Come deltaplano, inutile da chiedere, vi è l'hamburger gigante, ottimo per fare pubblicità all'azienda per cui lavora. E come scia, le fiamme dei fornelli con i quali lavorerà è la scia perfetta. La mimetica non poteva che ricadere su quella dei panini che cucina, sempre per fare un'ottima pubblicità all'azienda per cui lavora. Il balletto da fare quando si uccidono i nemici, beh, c'è davvero davvero bisogno di chiederlo? Chiaramente ragazzi scherza e rispetto chi vuole intraprendere un percorso universitario. Il costo totale di questo set in euro è di ben 59 euro. Il prossimo set che andremo a vedere è Genji, ma di Fortnite. Penso abbiate presente Genji di Overwatch, no? Ecco, però questo è Genji, ma di Fortnite. La skin di punta è appunto mega, nella sua variante giallo-arancione. La spada Tana è quindi perfetta per questo scopo, perché mantiene questi colori. Il piccone è l'artiglio del drago, nella sua variante giallo-arancione, che dà quel tocco di ninja. Come deltaplano, la scelta è ricaduta sull'ombrello della Season X. Per la scia, invece, le lanterne faranno un ottimo lavoro. Mimetica perfetta per le armi è Calore, che mantiene il colorito nero e giallo-arancione. Come balletto, invece, abbiamo il passo della vedova nera, perfetta per un ninja. Ryujinoki Uka-re! Il costo totale di questo set in euro è di ben 47,5 euro. Qual è il tuo set di combinazioni di skin preferito? Fammelo sapere nei commenti e soprattutto dimmi, riesci a fare tutti questi set? Ma proprio tutti? Devi assolutamente condividere questo video a un tuo amico che non sa assolutamente scegliere un ottimo look su Fortnite, perché così smetterà di andare in giro come un barbone. Alla prossima! Grazie! 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 Grazie!